Io sono un soldato, non sono un assassino. Che conta la vita di cento, due, cento persone davanti ai vittori di Grand Reich? Sono come i moschi. E io non ammazzo nemmeno le mosche. E sa cosa le dico? Che io l'ordine di sparare non lo darò, né ora, né mai. Adatte, coloniello, io ho carta bianca. E ci si pulisca il culo. Grazie.